E sabato scorso, giornata dedicata ai giovani filmmaker alla Lanteri di Pisa, occasione per l'assessore alla cultura di Palazzo Gambacorti di lanciare un nuovo progetto legato proprio al grande schermo. Col neonato di cinema al Parco delle Concette vogliamo creare proprio in quel luogo la cittadella cinematografica che offre non solo film di cassetta ma anche serate di film d'essere, di storia della videoarte e così via. Il cinema protagonista a Pisa, l'assessore alla cultura Magnani annuncia il nuovo progetto al Parco delle Concette, mentre a Lanteri vengono lanciati i lavori dei giovani pisani appassionati al grande schermo. Un intero pomeriggio dedicato, gratuito e aperto a tutti. Quattro e cortometraggi scelti su circa 30 inviati che danno l'idea di un bel movimento in città. Un appuntamento che lancia Cinema da Mare 2022, il più grande raduno di giovani filmmaker dal mondo che si terrà ancora a Pisa ad agosto. Abbiamo trovato un terreno molto fertile sia dal punto di vista dei giovani che hanno partecipato e ci hanno mandato tanti film ed è anche la premessa, è anche un primo passo, è anche l'attesa verso la prossima edizione di Cinema da Mare che molto probabilmente si rifarà qui nel 2022, cioè quest'estate, sempre con il nostro carico di giovani talenti che vengono dal resto d'Italia, dal resto del mondo, con il solido obiettivo di far girare film insieme tra filmmaker pisani e altri filmmaker che non sono di Pisa. È che appunto Cinema da Mare coinvolge tutta la cittadinanza, cioè la gente faceva la corsa per avere una piccola parte nei corti, per prestare un coniglio piuttosto che una stanza, piuttosto che un'auto per collaborare con questi ragazzi meravigliosi che hanno realizzato delle opere che rimarranno alla città e che rappresentano appunto una grande occasione di festa, di felicità, di condivisione e di contribuzione al loro lavoro.